Seconda del convegno, mezzo meccanico in movimento, si tratta di gentlemen con cavalli anziani, due cavalli non corrono, il 10 di Presidente G&G e il 13 di Leone Laser. Ne rimangono in 13, Raptor Amnis con Immobile, il fratello pieno del professionista, Insalchi, lui il più gettonato, mezzo meccanico in movimento, 13 anziani, miglio, seconda, gentlemen, allineamento che va già a completarsi, un po' arretrato il numero 6 di Raptor Amnis, problemi per il 12, perfect leader, prende velocità la macchina e si lotta per i birilli all'attacco della piegata, Marengo come da copione e tenta di mantenere lo steccato, ma all'argo insiste e ha un freeway, il numero 4 di Oliver Bio. 14 in lancio, viene subito via Oneway AS con la buona Rigillo e Oneway si profila subito sul leader e la Letizia punta in avanti, 400 se ne vanno in 30 e mezzo, freeway per il targato S, rimane in asino al vento Rommel Lewis che si traccina, Raptor Amnis, lontano il 12 di perfect leader, cavalli dopo 600 metri di gare che se ne vanno in 45 e 6, si viaggia da 1 e 16, si è formata una seconda fila a largo con il leader che amministra ora i birilli e conduce liberamente, all'argo è sempre le Rommel e Raptor. Mezzo miglio iniziale, se ne va in 1, 1 e 7, 16 e 1 di frazione, Oneway deve essere un attimo sostenuto e sollecitato, un po' pigrone, forse l'età, va lì di fronte, si va al completamento del chilometro che si chiude nell'ordine del 16 e mezzo ma sta già passando a Rommel Lewis e si trascina come un ombra il favorito Raptor Amnis e così il buon farina con il suo Lewis al comando, 400 alla meta, un 14 è trivolo quente, fa 1, 38, 3 quarti di miglia e Raptor è incisivo, mentre Oneway non demordi si riprende, forse era meglio tirato, retta d'arrivo, Raptor viene su con una marcia in più, mette l'overdrive, il buon immobile, si riprende Oneway, ma allarga, arriva a bombi il 2 di Occhio Baldo, occhio, occhio, occhio Baldo e mentre Raptor vince facile, Rommel è il secondo e per il terzo, allargo di tutti, occhio, 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 apparigli i cavalli all'interno, 2 minuti e un battito, 1, 15 e 1, pulita affermazione del giovane immobile, il fratello pieno del professionista, giusto salutare perché veramente è stata essenziale e fondamentale la sua guidata, 2, 63 in chiusura, non male Rommel con il doppio zero farina, fa quel che può, mentre vedete arriva bomba, occhio, 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 occhio Baldo, foto per il terzo.